E' stata depositata presso la Procura della Repubblica di Salerno la richiesta di decreto di acquisizione dei tabulati telefonici per le indagini legate all'incidente mortale avvenuto sabato scorso in via Serroni Alto. Gli agenti della Polizia Locale di Battipaglia, agli ordini del comandante Gerardo Iuliano, hanno inoltre comunicato che non sono state ancora liberate le due salme, quella dell'uomo di origini rumene per motivi di eredità, in attesa che l'ambasciata di Bucarest chiarisca alcune posizioni strettamente familiari. La salma del defunto indiano, invece, è in attesa dell'autorizzazione della magistratura alla cremazione.